Stanchi di fare la spesa nel solito supermercato a tre dimensioni? Stanchi di sapere la provenienza esatta dei prodotti nel vostro carrello? Siete stufi di pagare l'IVA? Immaginavo, Supermercati Infinity, la più grande catena di supermercati del multiverso. Abbiamo prodotti da ogni realtà parallela, un trilione di articoli nuovi ogni giorno, ma non sappiamo neanche noi da dove arrivano. Abbiamo filiali in ogni città e universo. Chiamateci al numero in sovrimpressione 333-333-3333. Supermercati Infinity, la spesa da un altro mondo. Per dimostrarvi la vastità dei nostri magazzini multiversali, vi abbiamo portato qualche prodotto. Solo per oggi è in sconto del 66%, un magnifico e puzzolentissimo paio di pesce a batte, signori. Guardate quanto sono fresche! Pescate stamane! Ve lo faccio vedere subito. Guardate, sono anche incredibilmente comode, cazzo! Guardate, eccole qui! Vere carpe! E possono essere vostre alla modica cifra di 69.897 lire! Affrettatevi, perché scadono domani! Tipo... Letteralmente! Anche voi siete preoccupati per il riscaldamento globale e le gravi conseguenze sulla biosfera, oltre che per le disuguaglianze con i paesi del terzo mondo, quando in realtà siamo noi, potenze globali industriali, responsabili della totalità delle emissioni planetarie, ma non vogliamo fermarci perché ci piacciono i soldi! Bene, anche io! Vogliamo forse che questo impedisca ai nostri piccoli vanilla di rinfrescarsi in questi inverni caldissimi? Certo che no! C'è tratta pineale direttamente dagli stabilimenti di Salò, pura acqua di fonte aromatizzata con cervella di adolescente per favorire la crescita del lobo frontale. È buona e fa bene! Credo... Credo... Può essere vostra a sole 25.000 lire al litro! Stacca di passare tutte le tue giornate in casa a pulire per terra mentre tuo marito è fuori a divertirsi con le tue amiche? Noi di Supermercati Infinity abbiamo sentito le vostre lamentele! Certo che non cambiate mai, eh! Sorridete un pochino, so via! Direttamente dai nostri laboratori ad alta tecnologia di Tor Viscosa su un paio di performanti ruote arriva il Roomba 2810 il primo pulitore automatico per ogni superficie Lasci i tuoi bambini incustoditi in casa con una macchina capace di intendere di volere ma che non può essere imputata dalla legge in quanto macchina Puoi scappare ma non puoi nasconderti Può essere vostro a sole 1.248.327 lire da pagare in 17 comodissime rate! Affrettatevi perché ne restano tipo... tipo 4 Ti va di giocare? E ora il nostro best set Oh, cosa c'è ti dico? Cioè, è davvero impossibile È un amaro È un amaro con faccia Guarda... Oddio Guarda che puoi levarti Mi fai un po' paura in realtà Grazie Grazie Può essere vostro a 10.000... No, facciamo... Facciamo che ve lo do a 5... No, facciamo a 1.000... Ma in realtà, sapete cosa? Potete portarlo a casa gratis Basta che lo leviete da lì al più presto possibile A me piace come la mia pelle è a contatto con il mio corpo Ma a te piace come la tua pelle è a contatto con il tuo corpo? Come potrebbe Ci sono dei vermi sotto la tua pelle Devi togliertela Ci sono dei vermi sotto la tua pelle Devi togliertela Ci sono dei vermi sotto la tua pelle Devi toglierla Ci sono dei vermi sotto la tua pelle Devi toglierla Ci sono dei vermi sotto la tua pelle Devi toglierla C'è solo un modo per farlo Supermercati Infinity presenta La grattugia per pelle Che può essere vostra a sole 33.333 lire O con 3 litri di sangue del vostro primo genio Pare ci sia stata un'interferenza dolosa sulle nostre frequenze Stiamo cercando di individuare la fonte dell'intrusione Ci scusiamo con i telespettatori per il disagio E per concludere abbiamo qui Maria Che fa la spesa con noi dal 1478 Dici Maria Qual è stata la tua esperienza nei nostri supermercati? Su avanti Ti stiamo ascoltando Supermercati Infinity La spesa da un altro mondo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.